Non viene garantita la distribuzione idrica per la giornata di martedì 22 marzo nella zona centro-balate di Caltanissetta a causa di interventi necessari e improrogabili all'interno del serbatoio Sant'Elia. Lo comunica Caltacqua informando che la distribuzione riprenderà regolarmente mercoledì 23 marzo, giornata in cui invece Sicilia Acqua a partire dalle ore 7 eseguirà un intervento di manutenzione urgente incontrata a Gianni Gallo e dunque verrà interrotto l'esercizio dell'acquedotto Madonie Ovest. Per questo motivo Caltacqua informa che sospenderà la distribuzione nella stessa giornata di mercoledì 23 marzo nel territorio del comune di Montedoro, dove riprenderà regolarmente giovedì 24 marzo.